Sei anni dopo l'edificio acquistato dalla ASL di Pescara è ancora in stato di abbandono. La struttura in zona ospedale è stata acquistata dall'azienda sanitaria nel 2014 al prezzo di 2 milioni e 800 mila euro da un privato che soli due anni prima se l'era giudicata per appena 900 mila euro. E ora per ristrutturare l'edificio occorrerebbe un ulteriore investimento di circa 4 milioni. Il vicepresidente del Consiglio regionale Domenico Pettinari che allora per aver sollevato il caso è stato costretto a risarcire per 50 mila euro l'ex presidente regionale Luciano D'Alfonso adesso può levarsi qualche sassolino dalla scarpa. Io subito contesto questa scelta perché dico è una spesa inutile, non serve. C'erano edifici di proprietà, potevano essere tranquillamente utilizzati dall'ASL per uffici amministrativi e di staff. Non mi credono, a distanza di sei anni sono stato costretto perché mi piange il cuore a venire qui stamattina e il dato oggettivo questo edificio è ammalorato, fatiscente, inutilizzato, abbandonato. 3 milioni di euro, quasi 3 milioni di euro di soldi pubblici di tutti i cittadini abruzzesi buttati qui. E allora io dico, io non voglio fare polemica, continuare a fare polemica. Dal momento che è entrato nelle proprietà dell'ASL di Pescara oggi potrebbe essere utilizzato. Cosa aspettano? Potrebbero ad esempio trasferire tutti gli uffici di medicina territoriale, consultorio, ambulatori per alleggerire l'ospedale di Pescara che sta a pochi metri, sta qui vicino. Perché non lo si è utilizzato per sei anni? Perché lo si è lasciato in abbandono? E gli sprechi non finiscono qui. L'elisuperficie dell'ospedale non è stata più utilizzata dopo l'acquisto di un nuovo elicottero che sarebbe troppo pesante per la piattaforma e così ora il mezzo d'emergenza deve atterrare all'aeroporto. Lì ci avevano detto che l'elicottero non poteva più atterrare, abbiamo scoperto con una perizia che può atterrare, però ad oggi non sono partiti né i lavori di ripristino e nessun cantiere c'è. Quindi l'elicottero, l'elisoccorso deve rilevare il proletraumatizzato, portarlo in aeroporto, in aeroporto scendere, entrare in ambulanza, l'ambulanza deve passare tutto il traffico cittadino ed entrare al proletraumatizzato potete immaginare il disagio e i minuti, il tempo che si perde, il tempo fa la differenza tra la vita e la morte di un politraumatizzato.